Ciao a tutti, sono Cristian Ho fatto il Master di Perfezionamento per la seconda volta mi sono trovato benissimo vi posso garantire che ad ogni Master si arricchisce ovviamente il nostro bagaglio si vanno a rivedere tutte le manovre che si fanno durante i massaggi base quindi del relax, dell'istensivo muscolare e anche del drenante e ci viene fornita dalla direttrice una versione pro una versione pro ma oltre a questo ci viene spiegato il significato che ci sta dietro ad ogni manovra e anche si va a perfezionare infatti l'intenzione che bisogna mettere ad ogni massaggio ovviamente vi posso dire anche che è stata un'esperienza molto forte a livello emozionale perché si ha quel confronto con gli studenti che sono presenti si fanno degli esercizi di gruppo proprio per entrare in relazione, per conoscersi per condividere ovviamente l'esperienza stessa che giorno dopo giorno ovviamente si va a creare quel gruppo quel gruppo e quindi c'è anche uno scambio di energia e quindi che direvi, nel senso il master è il passo verso l'eccellenza se volete diventare degli operatori eolistici che sanno e sanno fare e sanno anche spiegare ai propri clienti che cosa vuol dire l'eolismo non Grazie a tutti.